Oggi siamo al Teatro Smeraldo con Roundabout Minds, Enrico Rava, Stefano Bollani e John Scooby. Uno Scoffle in R&B, versione R&B un po' particolare, ma hai sentito molto piacevole. Che dire, bellissima. È stato molto bello. Poi soprattutto vedere tre nomi di questo calibro nella stessa serata a questo prezzo, penso sia un'occasione unica per Milano. Molto valido, come sempre, un'organizzazione meravigliosa. È sicuramente emozionante, vibrazioni di altri tempi.